Un incarico senza dubbio prestigioso che mi carica di responsabilità. Si tratta di un tema cruciale per questa regione. L'acquedotto pugliese è l'acquedotto più grande di Europa. Il consiglio direttivo dell'autorità idrica pugliese ha eletto quale nuovo presidente dell'ente il sindaco di Mesagne, Tony Matarrelli. Vicepresidente è stato nominato il sindaco di San Marco Illamis, Michele Merla. L'autorità idrica pugliese, soggetto rappresentativo dei comuni dell'intera regione per il governo pubblico dell'acqua, con sede a Bari istituita nel 2011, è un ente pubblico non economico dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. Il consiglio direttivo risulta attualmente composto anche da Antonio De Caro, sindaco di Bari, e Carlo Salvemini, sindaco di Lecce. L'autorità idrica svolge una funzione centrale, decide insieme all'acquedotto quali siano le infrastrutture da realizzare sul territorio regionale, per cui un organismo non solo di rappresentanza ma un organismo che svolge una funzione esecutiva. Ovviamente io sono grato al sindaco De Caro e al sindaco Salvemini e anche al sindaco Merla che mi hanno attribuito questa fiducia, è un fatto importante che la provincia di Brindisi esprima la presidenza per la prima volta e noi lavoreremo sodo affinché il tema dell'acqua pubblica resti centrale in tutte le strategie della regione Puglia. Non è possibile immaginare che un bene così prezioso possa capitare nelle mani dei privati e da questo punto di vista la regione Puglia è in buone mani.